Sì, sì, no, io credo di dover rivolgere un augurio a una comunità umana molto più vasta, molto più ampia, perché in questo momento un fiume di solidarietà si è mostrato nei confronti della nostra città, nei confronti della nostra comunità, di tutte le aree colpite dal terremoto. Noi passiamo, attraversiamo dei momenti in cui pensiamo anche noi di non farci, nel momento in cui i cittadini ti rivolgono delle stanze anche di carattere primario, ad esigenze di carattere primario e tu magari non hai, non disponi della possibilità di poter dare risposte a queste esigenze primarie, quelli sono momenti difficili, momenti in cui un sindaco si sente morire. In quei momenti noi ci ricordiamo che non siamo soli, in quei momenti ci ricordiamo che intorno a noi c'è tanta gente che ci vuole bene, c'è tanta gente che ha mostrato concretamente la vicinanza e l'ha fatto anche dal punto di vista proprio della condivisione del dolore, della condivisione delle difficoltà insieme a noi e quindi a tutta questa grande comunità, che certamente io rivolgo i migliori aguni per le prossime festività natalizie e ai nostri, ai nostri concittadini, soprattutto a quelli che sono rimasti a Norcia e che stanno soffrendo questa mattina nella nostra città, meno 9 segnava la colonnina di Mercurio e a loro che mi unisco in un abbraccio fraterno, forte e sincero, perché tutti quanti insieme passeremo queste tristi prossime festività natalizie, cercheremo di passarle nel migliore dei modi, tutti quanti insieme le dovremmo attraversare uniti in un simbolico abbraccio, solo così potremo sentire meno la sofferenza di non poter vivere le festività natalizie nelle nostre case.